Cari amici, tanti saluti da Serafino Massoni. Titolo del video, scrivere un romanzo. L'occasione per girare questo video mi viene offerta da una simpatica amica, blogger, che è anche una studentessa universitaria, la quale, ecco qua, Tuscia, Tuscia 8.4, Tuscia 8.4, e la quale mi scrive questa bellissima lettera. Caro professore, ho terminato la lettura del suo ultimo romanzo, La stippa del serpente, e devo dire che è stata una delle letture più sconvolgenti della mia vita. Mi interessava sapere come è nato in lei l'interesse per il mondo patriarcale, quali sono stati gli spunti dei mezzi che hanno indirizzato la sua ricerca in questo senso, quali sono i modelli, i metodi di documentazione, eccetera, 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 eccetera. Per una lunga lettera, è molto bella, come si dice, non di solo pane vive l'uomo, si vive anche di queste, chiamiamole, soddisfazioni, vedere il riconoscimento del proprio lavoro. Ne erano arrivati tanti in precedenza, di messaggi analoghi relativamente alla stippa del serpente, e però solo ora mi decido a fare questo video, perché qua si parla anche di come io sono arrivato ad avere un interesse per il matriarcato, come mi sono documentato e via di seguito, complimenti per i suoi video, perché sono una studentessa di 25 anni, eccetera, eccetera, eccetera. Io ringrazio la cara amica Tuscia84 e vediamo un po' se riesco a rispondere alla sua domanda. Allora, anziché parlare di tutti i miei romanzi, devo dire che ogni mio romanzo storico è dedicato a, in un certo qual senso, un risvolto psicoanalitico. Per esempio, il mio primo romanzo storico, La lama e la rosa, edizioni a Liberti, poi uscito in tutte le edicoli italiane dalla casa editrice Aschette, nella collana I codici segreti della storia, La lama e la rosa, questo romanzo storico, ambientato ai tempi della nascita della Santa Inquisizione, e è dedicato al rapporto tra madre e figlio, madre e figlio, nel contesto storico dei tempi della Inquisizione. Come vedete, quindi, è un romanzo che sta dentro l'ideologia patercale. Poi c'è il secondo romanzo, Il Tribuno Egizio, questo invece è apparso nel catalogo dalla casa editrice Tullio Pironti, il cui catalogo è portato nelle librerie, dalle messaggerie libri. Questo romanzo storico è ambientato ai tempi della guerra annibalica, della grande guerra tra Roma e Cartagine, seconda guerra punica ai tempi di Annibale, reciprocino africano e questo è dedicato al conflitto tra i fratelli. Poi c'è il terzo romanzo storico, sempre dentro l'ideologia patriarcale, il marinaio delle Antille, sempre a liberti di Tori. Questo invece è ambientato ai tempi della nascita del nazionalsocialismo e precisamente dalla formazione delle S.A., le squadre d'azione. Per ciascuno di questi romanzi la documentazione è stata pressoché sterminata. Sterminata! Per scrivere questo romanzo, per esempio, io ho passato, essendo ambientato ai tempi della nascita del Tribunale dell'Inquisizione, e siamo tra il 1200 e il 1250 d.C., ai tempi del grande imperatore italo-germanico Federico II di Svevia, Federico II Hockenstaufen, Altavilla, definito lo Stuppor a Munti. E io ho trascorso tanto, tanto tempo, in periodi diversi, nei sotterranei del Vaticano, nei sotterranei del Vaticano per espirare una certa atmosfera, perché tra l'altro i sotterranei del Vaticano tra l'altro confinano strettamente o sono al di sopra di un preesistente tempio dedicato alla dea Iside. Poi, sul tempio dedicato alla dea Iside a Roma, là sul monte Vaticano, ai tempi di Costantino nacque una prima basilica cristiana e successivamente ci fu tutto il grandioso impianto di San Pietro. Ecco, e siamo quei tre romanzi che vi ho fatto vedere sono tutti di impianto patriarcale. Ma a un certo punto mi sono detto ma come mai tutte queste tensioni all'interno del patriarcato, come mai, perché io ho dovuto scrivere un romanzo sul rapporto difficile tra i fratelli, come Caino e Abele. Perché? Perché? E il romanzo è il tribune egizio. Poi mi sono detto ma perché un romanzo sui rapporti sovente conflittuali tra padre e figlio narrati nel marinaio delle Antille. E poi perché i rapporti sovente conflittuali tra figlio e madre narrati nel romanzo La lama e la rosa ambientato appunto ai tempi della nascita del tribunale dell'inquisizione. E ho detto ma è stato sempre così il mondo? È stato sempre così? Sempre così? Sì, non c'è stato forse un periodo in cui c'erano diversi assetti diversi assetti sociali? Magari c'erano forme di legami diversi? E ho fatto un lavoro di scavo nel nostro passato. Freud ha fatto un lavoro di scavo nell'individuo, nell'inconscio è penetrato dal conscio all'inconscio. Io ho fatto un altro passaggio un altro lavoro di scavo che è andato dal patriarcato a scavato per andare alle fondamenta del patriarcato e cioè sono arrivato al patriarcato. Qui non è che sia stato io il primo a farlo ci mancherebbe altro c'è Bacofen c'è lo stesso Friedrich Engels ma quanti, quanti, quanti hanno parlato del patriarcato io ho trovato la documentazione pronta l'importante però è che abbia fatto questo passo ma perché l'ho fatto? Ma perché ho visto l'estremo disagio l'estremo disagio che provocano le relazioni d'amore nascono, finiscono la gente soffre ho detto ma quando che cos'è l'amore? Quando è nato l'amore? Perché c'è l'amore? Cos'è questo sentimento dell'amore? E ho verificato che il sentimento che noi chiamiamo amore in un certo senso l'amore romantico quello di cui parla il sociologo Francesco Alberoni l'amore che muove mi pare il cielo e le altre stelle diceva Dante questo tipo d'amore non esisteva ai tempi del patriarcato e io l'ho chiamato l'amore patriarcale quando nasce l'ho chiamato l'amore miceneo e infatti questo romanzo in un certo senso è dedicato alla nascita dell'amore miceneo quell'amore che tutto promette e nulla mantiene che fa spargere tante lacrime un amore diciamo così idealizzato che poi diventerà l'amore stilnovistico appunto della donna angelicata cantata dai poeti del dolce stil nuovo ma già prima i poeti probadorici provenzali avevano cantato questo amore questo amore raffinato sublimato poi ancora nell'ottocento abbiamo il Goethe che scrive il dolore del giovane Werther addirittura un povero ragazzo che si uccide per amore stessa cosa con Ugo Foscolo le ultime lettere di Jacopo Ortis che tra l'altro andate a informarvi sembra pure che Ugo Foscolo nello scrivere le ultime lettere di Jacopo Ortis abbia scoppiazzato alla grande da i dolori del giovane Werther del Goethe e così ho fatto un lavoro di scavo di scavo ho scavato ho scavato e ho visto che il nostro passato matriarcale era meno contraddittorio del nostro mondo patriarcale e che in tutto il nocciolo della questione sta nella famiglia la famiglia monogamica patriarcale e osservava Marx che tutte le tensioni che si agitano nella società le possiamo vedere in piccolo già nella nella famiglia conflitti tra il marito e la moglie sono classici del patriarcato i conflitti tra il marito e la moglie e anche i conflitti tra i genitori e i figli ho osservato recentemente che nei comandamenti esiste nei dieci comandamenti esiste un comandamento che dice onore al padre e alla madre però il Signore si è dimenticato di scrivere quel comandamento che dovrebbe dire onore al figlio e la figlia ecco allora è stato tutto un lavoro di scavo tutto un lavoro di scavo ed è uscito la stirta del serpente ma a scrivere questo romanzo è stato per me dolorosissimo sono stato male perché sono penetrato in un mondo che non è il mio il nostro mondo ho dovuto rovesciare tutto il mio modo di pensare sono stato male molto molto male non dormivo non riuscivo a dormire di notte mi svegliavo mi svegliavo perché mi dicevo no quella cosa tal di tali la devo modificare e così per tanti mesi mi diceva poi vi posso dire con tutta franchezza che ho sofferto le piene dell'inferno sono stato aiutato anche da questo magnifico libro di Filostrato eroico eroico che lo trovate nel catalogo Marsiglio e Filostrofo già duemila anni fa ha smontato tutta l'apparicchiatura eroica di Omero ha detto quello che si doveva dire su Ulisse un grande falsario si può dire che Ulisse è stato quello che ha inventato la lettera anonima la lettera anonima perché ha fatto operazioni di questo tipo Ulisse ha detto la verità anche su quella su quel fanfarone di Achille che non mi era mai piaciuto già da quando facevo la terza elementare perché ai miei tempi terza elementare eravamo nel 48 non c'era ancora stata la riforma dei programmi elementari voluta dagli americani e si faceva quando si studiava la storia greco-romana in terza elementare quando si parlava del mondo greco-romano degli dèi degli eroi dei semidei e vi di seguito e non mi è piaciuto fin dall'inizio Achille il fanfarone Achille che sfida Ettore lui è invulnerabile che sfida una persona umana vulnerabile non mi piacevano queste speriquazioni e qua ho trovato soddisfazione è una bellissima lettura Gary ecco quindi è stato un lavoro estenuante scrivere un romanzo è un lavoro estenuante semplicemente estenuante estenuante probabilmente probabilmente se dovessi ricominciare da capo ma con il web non tornerei più a fare le fatiche che ho fatto anche perché non è facile entrare nel mondo editoriale italiano l'Italia in Italia ci sono 60 milioni di abitanti parlanti della lingua italiana non è che all'estero non siamo noi come la Spagna dove la lingua di ispanici sono in tutto il mondo gli ispanici in Sud America in Centro America negli Stati Uniti e vi di seguito non siamo neanche come la Francia la lingua francese è la seconda lingua nazionale in chissà quanti stati non siamo come gli inglesi il nostro mercato è molto ristretto il mercato editoriale e gli editori italiani che fanno? o ti pubblicano i romanzi dei giornalisti della tv dei personaggi della tv te li pubblicano subito a scatola chiusa oppure ti traducono dall'estero perché vanno sul sicuro e non pubblicano l'opera di uno sconosciuto va bene? quindi è stata una fatica immensa se io prima avessi avuto a disposizione il web vi dico con tutta franchezza che avrei preferito costruirvi il mio piccolo blog e diciamo così scrivere sul blog va bene? va bene cari amici io ho risposto in parte perché il video potrebbe diventare molto molto più lungo ho risposto almeno in parte alle domande di questa simpatica studentessa universitaria 25 anni Tuscia84 che pubblicamente ringrazio per questo suo riconoscimento grazie anche a tutti voi a tutti voi tanti saluti da Serafino Massoni grazie a tutti